E quindi invito la maestra d'arte Gina Roma Io non mi aspettavo questo invito però sono contenta di dire due cose a nome e penso di interpretare l'emozione e la gioia di essere ospitati in questa bellissima chiesa di tutti i miei colleghi, ne ho visto qualcuno qua, non siamo qui tutti però gli altri sono impediti da altre cose d'arte perché è una stagione proprio in cui ci si muove tanto col nostro lavoro ma veramente è una grande emozione e vedo che da alcuni anni c'era questa difficoltà di inserimento dell'arte moderna nelle chiese e questo incontro adesso veramente fa sì che si riprenda il dialogo perché la chiesa è il posto migliore dove noi possiamo mettere le nostre cose dove possiamo interpretare è abbastanza difficile interpretare un tema sacro e mantenere la propria personalità qui io vedo che tutti abbiamo cercato di fare questo con lei e io anche insomma abbiamo avuto tutti un tema un tema che bisognava rispettare perché dovevamo raccontare proprio veramente quel tema e mi pare che abbiamo risolto e senza compromettere la nostra personalità perché veramente ognuno di noi è riconoscibile credo che questa sia una delle qualità più importanti ringraziamo tutti dell'invito e dell'ospitalità magnifica che abbiamo avuto e anche veramente delle attenzioni e gentilezze che abbiamo avuto veramente anche da tutta la città da tutto il paese vi ringrazio grazie 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 grazie